... Nei centri estetici l'epilazione attuata mediante laser rappresenta una pratica medica e di conseguenza l'esecuzione appartiene al personale sanitario conciò escludendo ulteriori professionalità. L'utilizzo di pratiche mediche da parte di soggetto non abilitato, a parte gli eventuali risvolti di ordine penale, costituisce di per sé atto illecito e generando danno alla persona, fonte di responsabilità civile.